libero liberiamo mi raccomando ecco mancano tre giri a termine nel primo gruppo degli altri Giovanni Baroni nel primo gruppo ecco Mario Carleso abbiamo finito il gruppo ha vinto ieri ecco il primo gruppo di inseguitori avranno un paio di minuti ecco il gruppo forza forza via che si respira forza forza che respira il gruppo si è spaccato in tanti tronconi eccolo qui la coda del gruppo bravi, bravi ragazzi forza che respira bravi, bravi su vai, via ecco la scorta tecnica ecco 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 ecco